Dottoressa Luisa De Stefano, quanto è importante il ruolo di Fadoi e soprattutto la ricerca No Profit? Fadoi rappresenta un'importante organizzazione, soprattutto un importante momento annuale di riflessione su una tematica come quella della ricerca indipendente che è sempre più importante, lo è da sempre, ma che oggi sta diventando sempre più importante per guidare anche le strategie farmaco-economiche e anche la visione dei nuovi scenari del sistema salute. Per quanto riguarda la giornata di oggi nello specifico, credo che ci sia stato un nuovo punto importante di partenza che Fadoi ha raccolto, che è quello della centralità della persona nella ricerca indipendente, che è un'evoluzione di quello che da anni, su cui da anni stiamo lavorando come anche organizzazione e come tutti gli attori che sono coinvolti nella ricerca indipendente o dipendente. Nel caso specifico io sono il responsabile dell'advocacy di Roche e riteniamo che l'unione di tutti gli stakeholder su un tema così importante possa veramente fare la differenza e poter portare a quella rivoluzione anche culturale del ruolo della persona che poi è anche paziente o è supporto del paziente come caregiver nella ricerca e nello sviluppo della ricerca stessa, che sia indipendente, profit o non profit.